Salve a tutti ragazzoli e ben ritrovati in questo discutiamo subito dopo il Gran Premio Una reaction un po' caldo, un po' al volo, un po' tutto Ho segnato qui su un Google Document tutto quello che ho da dire Quindi se a volte guardo di qua e poi qua c'è ancora il podio In realtà voglio un po' vederlo anche se senza audio Insomma volevo fare questo video veramente al volo Perché poi settimana prossima ho un sacco di cose da fare Dunque partiamo subito Il Gran Premio non era ancora iniziato quando Leclerc si era spaventato E si era preoccupato per un problema forse relativo al fondo Fortunatamente nell'outlap che ha fatto prima di mettersi in griglia Non ha più riscontrato altri problemi e durante la gara non si è mai lamentato Ha avuto un po' di problemi forse con un short shift in uscita dalla Curva 5 Quindi mi viene da pensare in uscita dalla Roggia Però alla fine non ha avuto particolari problemi Anzi nessun tipo di problema Ovviamente sto facendo anche questa intro per chi penso non ha potuto vedere il Gran Premio Ma si trova a Monza Magari quando rientrate a casa scrivetemi magari qua sotto nei commenti Magari state guardando questo video per avere una visione un po' più chiara e vi ringrazio 9 piloti penalizzati all'inizio di questo Gran Premio Praticamente metà griglia penalizzata E qui viene il discorso penalità Penalità che fino allo scorso Gran Premio Chi prendeva 5 posizioni o 10 posizioni Ma aveva qualcuno che aveva a sua volta delle penalità dietro di lui Perché si era qualificato dietro di lui Il pilota davanti che aveva preso penalità Scalava automaticamente di una posizione o due posizioni in meno Fortunatamente sono d'accordo sulla decisione della FIA Che ha deciso di mettere i piloti nelle posizioni giuste Verstappen è partito settimo ma poteva partire quarto come è successo in passato Fortunatamente si è applicata questa regola Questa è una grande cosa e devo fare anche uno shootout A il buon Felipe Derugovic che vince il campionato della serie cadetta la Formula 2 E al buon Victor Martins che vince invece quello della Formula 3 Bravissimi Speriamo che possono avere un posto Soprattutto Felipe possa avere un posto l'anno prossimo in Formula 1 Anche se è difficile non ci sono granché di spazi Ho qui davanti a me tutti i giri dei top Diciamo top drivers più qualche altro spunto Dunque Leclerc il giro 12 sotto Virtua Safety Car Questo parleremo chiaramente adesso Verstappen che si è fermato praticamente a metà Gran Premio nel giro 25 E la Safety Car Il tema Safety Car Che è stato veramente una delusione totale I fischi sono assolutamente più che giustificati in questo caso Perché i fischi fanno sempre parte dello sport Diverso quando si passa a offese E soprattutto non pensate a complottismi Ma davvero Pensate come è successo per il caso di Tsunoda In Olanda Un'enorme disorganizzazione Non hanno capito veramente niente una ceppa in quella situazione Anche nel caso di Olanda Bottas fermo in entrata di curva 1 Non c'era niente da fare Che se non far entrare una Safety Car Hanno aspettato un giro Un giro e mezzo Qua è andata ancora peggio Mi voglio togliere però altre cosine Prima ovvero De Vries A punti P9 ragazzi Due punti per il pilota landese Fantastico Davvero una gara accorta Delicata Tranquilla Soft media Bravo perché Ha tenuto veramente un gran ritmo con le soft E sempre in trenino di RS Sembrava una gara eSport Con il capotreno Ricciardo Che non si poteva passare P9 ragazzi Pensate che è il miglior risultato Di una Williams quest'anno Albon aveva ottenuto 3 P10 Mentre De Vries una P9 Soprattutto ha superato e battuto in qualifica la Tifi Non c'è più niente da dire Però ho un discorso riguardo agli olandesi Perché gli olandesi hanno portato abusivamente All'interno del parco di Monza Una tribuna Ha cercato di costruire una tribuna 80 olandesi Ma sono stati fermati nel corso del venerdì Parlando invece della gara Dei top Adesso entriamo più nel vivo Sainz rimonta clamorosa Doppio sorpasso Perché l'ha fatto prima una volta Poi un'altra Su Perez Clamoroso Soprattutto quello all'inizio Con Perez Che in quel momento Cosa che non hanno mai detto su Sky Ha bloccato così tanto le gomme davanti Che oltre al surriscaldamento dei freni Ha decisamente buttato quel 3-1 di soft E all'ottavo giro infatti È stato costretto a rientrare in box Dopodiché ha fatto un 34 giri di run E si è piazzato Mi pare in sesta posizione Solo davanti No In settima posizione Dietro Norris E dietro a Hamilton Comunque il passo gara di Perez Era veramente molto buono Ma chi mi ha stupito Veramente in positivo Per l'aggressività La cattività È stato sicuramente Carlos Lo spagnolo è stato bravissimo Fortissimo Appena aveva la chance Superava il pilota davanti In qualsiasi staccata Che fosse la prima variante Che fosse l'erogia Che fosse anche Addirittura l'entrata in Ascari Veramente bello Meditava forse il podio Non so onestamente Se Carlos Avesse potuto prendere La posizione su George Voglio essere veramente onesto Perché Era distante Ancora Stava arrivando Forse all'ultimo giro Avrebbe avuto un DRS Però comunque Un quarto posto Partendo diciottesimo È sicuramente Un grande risultato Buon risultato sicuramente Anche per Lewis Hamilton P5 Non me l'aspettavo Perché nei primi dieci giri Era diciottesimo Sedicesimo Diciassettesimo Era lì dietro Ma sapevamo Forse difficile Per la Mercedes Risalire Mercedes non ha Una grande velocità Una grande efficienza Sul dritto E quindi ha fatto Secondo me anche Una buona gara Buona gara davvero Anche per il buon George Russell E arriviamo al momento Della virtual safety car Virtual safety car Che entra in corso d'opera Se non vado errato Al giro 11 Anzi Ah si Inizio Fine giro 11 Inizio giro 12 Leclerc Va in box Alla fine del giro 12 E la virtual Si interrompe Esattamente Quando lui Finisce il pit stop O meglio E nella piazzola box Guadagna Grazie alla virtual safety car 7 secondi Su un pit stop Normale Tuttavia Da lì La situazione cambia Quello che ho scritto È Quello che ho scritto Al giro 14 Dunque due giri dopo Analizzando poi la questione E tutta la situazione Magari Provo a leggere Ma ci potrebbe essere Qualche errore Perché ho scritto Naturalmente Mentre guardavo la gara È che Appunto la safety car È diventata È uscita la virtual Dopo metà pit lane Praticamente Anche meno 7 secondi circa Di guadagno di Charles Facendo la sosta prima Ferrari è dovuto difendersi Poiché altrimenti Questo l'avrebbe fatto Max Mostra così così A mio modo di vedere Giusto per guadagnare Dei secondi Sì ma forse Vedendo la velocità Sul dritto della Ferrari Dunque vedendo l'efficienza Della rossa Sul dritto L'opposto sarebbe stato Forse migliore Dunque Max Che rientrava Al posto di Charles Ebox Perché Max Avrebbe dovuto inseguire Leclerc Che avrebbe potuto fare Una gara Piuttosto tranquilla Vedendo anche L'ottimo passo Dimostrato da Carlos Con le gomme medie Potevano fare forse Soft medie Dato che Leclerc comunque Non accusava Nessun tipo di problema Con le gomme soft A maggior ragione Questa cosa Ve la dico Perché Il box Red Bull Il team Red Bull Durante questa Weekend di gara In generale Ha fatto veramente Ciò che doveva fare La grande efficienza Sul dritto Della Red Bull Ha permesso Agli uomini Sì Agli uomini Di Milton Keynes Di portare una vettura Che performasse Più nelle poche curve Del gran premio di Monza Sono 11 ragazzi Le curve Del gran premio italiano Quindi Questo ha permesso Loro di sacrificare Della velocità Che comunque rimaneva Elevata Per performare Sia dal punto di vista Dell'aerodinamica In efficienza In curva Sia sull'efficienza Degli pneumatici Del surriscaldamento E dell'usura Degli pneumatici Non è un caso Che Verstappen Sì È un mostro Ma abbia fatto Più di 24 giri Sul 25.8 26.0 25.7 25.9 È più che normale Come cosa Perché La gomma Non la consumavano Erano Efficienti Sul dritto Perché la macchina Lo consente È nata così Grandissimo Red Bull Power Trains Motore Honda Praticamente Bravissimi Chiaramente Nel muretto E in generale Nella fabbrica Di Milton Keynes E grande strategia E grande visione Perché La qualifica Un conto La gara Un'altra Soprattutto Considerando che Queste vetture Hanno una gran facilità Rispetto al passato Di riuscire A rimanere Dietro Al pilota Davanti Anche se si è Un decimo Due decimi Magari Un po' più lento Poi con La scia Con o senza DRS In questa pista Capite bene Che è impossibile Probabilmente perdere Il train A meno che non ci sia Un divario Veramente netto Lo stesso Max Che nel corso Di un giro E cento metri Si è trovato In terza posizione Partendo Settivo Si è trovato subito In terza posizione Bruttissimo Lo stall Di Norris Che ha lasciato Una via Di Proprio Libera Al buon Verstappen Che chiaramente Poi si è scelta Verstappen avrebbe vinto In tutti i casi Ci sarebbe stato Forse Anzi Sarebbero state Due possibilità In realtà Per la Ferrari Ovvero Non andare A box Durante il periodo Della virtual safety car E magari Nella ripartenza Di un'ipotetica Safety car Che si sarebbe Totta di mezzo All'ultimo giro Al giro 53 O al giro 52 E dei 53 Realisticamente Parlando Al giro 52 Potevano Far sdoppere I piloti O meglio Al giro 51 E al giro 52 Potevano Far ripartire La gara O forse Al giro 53 È normale Giustissimo Che i commissari Non hanno Mai toccato La vettura Non hanno fatto Niente con la vettura Prima che La safety car Avesse Il Verstappen Il buon Verstappen Come capotreno Diciamo Capo E con tutti Gli altri Dietro Normale Perché prima Sarebbe stato Troppo difficile Anche perché Andavano Fortissimo Fortissimo Rimanendo Sul piano Invece Della Virtua Safety car Con Diciamo La gara Che si è Decisa In quel Momento Al giro 83 Dopo Giri Leclerc Rientra Ai box 21 Giri Insomma E ha 20 Giri Di Sorte A fare 20 Giri Per recuperare 20 Secondi A max Verstappen L'ha Ovviamente Nessun Pazzo Nessun Folle Poteva Credere In una Rimontale Al genere Fatto sta che Fino al giro 48 49 In realtà E mezzo Non è arrivata Non è arrivato Nemmeno a 10 secondi Leclerc In 16 giri Ha guadagnato Soltanto 4 secondi Non mi aspettavo Un guadagno così Piccolo Così ridotto Mi aspettavo Più di 4 decimi a giro In realtà Come guadagno Come media Saremmo sui Due decimi e mezzo Tre a giro Massimo E comprensibile Perché La Ferrari Nonostante avesse Gomme soft Nonostante fosse Con poca benzina Comunque Non raggiunge L'efficienza Che ha nel complesso La Red Bull Che con gomme media Se hanno fatto 25 giri Con gomma soft Immaginate Quanto poteva Guidare Rilassato Verstappen Con gomma media Il discorso Non sarebbe Comunque cambiato Ma avrebbe aperto Una clamorosa chance Per Leclerc Nel caso in cui La virtual Fosse durata Tutto il Pit stop Quindi Leclerc Avrebbe avuto Tipo 9 10 secondi Di svantaggio Da Verstappen Prima dell'arrivo Della nuova Safety car Negli ultimi giri In quel caso Attenzione Perché Si poteva giocare Di strategia Si poteva fregare Red Bull Forse Non lo so Onestamente Verstappen Sarebbe diventato In box Leclerc Non sarebbe diventato In box E sarebbe Risultato davanti Per la ripartenza Anche se con gomme soft Usate Rispetto a Max Che aveva gomme Nuovissime Nuove di zecca Ma poi la gara Non si è conclusa Sotto bandiera verde Ma sotto la safety car Quindi sarebbe stato Un colpazzo clamoroso Ma con i secoli ma Non si va avanti Questa sarebbe stata Una strategia Interessantissima Che poteva essere Aperta E poteva essere Considerata Nel caso in cui La virtual safety car Non fosse durata Poco Relativamente Naturalmente E non fosse andata Contro La strategia Diciamo La difesa Della Ferrari Arriviamo al momento clou Ovvero La safety car Negli ultimi giri Prima Altre due Chicche Ovvero Che per l'ultima Di Seb Purtroppo Si è chiusa Con un ritiro Qui in Italia Spero di andarla a vedere Magari ad Abu Dhabi Facendo un viaggio Pazzo Stile Messico L'anno scorso Dove sono andato Completamente da solo Magari poi usciranno i video Se riuscirò Bruttissima L'Aston Martin Perché si ritira Anche con Stroll Problemi di sui riscaldamento Di sui riscaldamento Dei freni L'Alpine In grande occasione Veramente mancata Non me l'aspettavo Alonso Che dopo 10 top 10 Di fila I problemi Di affidabilità Che erano Un lontano ricordo Appunto Di 10 gran premi fa Ritorna ad avere Problemi di affidabilità Peccato Mi dispiace chiaramente Per lui Però Comunque sia Le gare sono gare L'Alpine Si è dimostrata Quanto meno Più brava Dal punto di vista Dall'affidabilità Nel risolvere Questi problemi Di gioventù Diciamo Nel nuovo motore Renault Power unit Renault Alpine Ora Ricciardo si ferma Brutta vega Per quanto riguarda Ricciardo Che se corresse Soltanto a Monza Avrebbe sicuramente Meno punti di Norris Ma sarebbe più vicino In classifica Rispetto al pilota inglese A parte questa battuta Tra l'Esmo 1 E l'Esmo 2 Quando si ferma una vettura È quasi automatica La safety car Non è la prima volta Che accade Che qualcuno si ferma lì E la safety car È quasi imminente Anche perché 50 metri prima Dopo l'uscita di l'Esmo 1 C'era una via di fuga Ma i commissari Erano in pista E dovevano scendere in pista Doveva arrivare una gru Perché poi la macchina Non si riusciva a spostare Doveva essere immediata La safety car Safety car che però Hanno chiamato Dopo 45-50 secondi Allora Bandiera gialla È successo questo Bandiera gialla Verstappen a 20 secondi Dalla linea box Non rientra Perché la safety car Ancora non è uscita Leclerc Che è a 20-17 secondi Diciamo da Verstappen Non rientra Perché la safety car Ancora non è uscita Poco dopo La safety car Esce O comunque Viene dichiarata L'uscita della safety car Giro 49 E la safety car Esce Giro 49 Attenzione Perché si è fermato A metà del 48esimo giro Ricciardo Quindi Quasi un giro Per decidere la safety car Dopodiché Assurda questa cosa Safety car che viaggia Fortissimo E tra l'altro C'era una Un hod stranissimo Della federazione Comunque di formula 1 Che ha messo questa grafichina qui Che magari adesso vi faccio vedere A qualche parte Con la formula 1 Che viaggia in un minuto e 20 di media E più lenta di 45 secondi Una safety car Ma penso che questo hod Sia stato effettivamente Quello che è successo Nel corso della safety car Che è uscita negli ultimi giri Perché Nel giro 49 Nel giro 50 La safety car non si trovava E infatti Se ci pensate 45 secondi Più 45 secondi Fa un minuto e mezzo Ovvero Un giro Praticamente Di distacco E se ci pensate 45 secondi Più 45 secondi Ogni giro Quindi giro 49 Giro 50 Fa un giro Praticamente In cui Verstappen È andata a caccia Di questa safety car La cosa assurda È che la safety car È uscita Al giro 49 Ma soltanto Alla fine Del secondo settore Ma anzi Vi dirò di più Dopo la scari Ha trovato Il suo leader Di gara Si era messo davanti A Russell Allentando Russell Si era messa A correre Per tutto il Gran Premio Per tutta la pista Senza fermarsi Come di solito Fanno La safety car Se non trova il leader Si piazza In uscita di curva 1 All'interno O all'esterno A seconda di dov'è La curva E aspetta Che il leader Arrivi Io questa cosa Vi giuro Non l'ho veramente capita Perché Due giri e mezzo Per riuscire a Fare entrare la safety car E trovare il leader È fuori di testa Poi Occhio Attenzione Non sarebbe forse Cambiato nulla Perché Comunque sia Verstappen Aveva gomme fresche Le clerk no Ma a seconda della ripartenza Uno ci avrebbe provato E l'altro no Ci hanno violato E privato Di una ripartenza E questo non è bello Quanto meno Fai uscire la bandiera rossa A questo punto Se ci sono tutti questi problemi I fischi sono giusti Come dicevo all'inizio Sono più che giusti Non è Ammissibile Una cosa del genere Non lo so Non mi è piaciuta Io non capisco Più che altro Va bene che fai uscire La safety car 50 secondi più tardi Perché devi capire Se i commissari Riescono a spostare La vettura in tempo Eccetera Ma comunque è rischioso Ma poi Due giri e mezzo Per trovare il leader Ma non è Non è normale Non è normale Come cosa Questo ragazzi È il discutiamo Del gran premio Di Monza Mi dispiace Per tutti i tifosi Che sono arrivati Chiaramente A corsi in tantissimi Eravate oltre 300.000 persone Mi dispiace anche a Mendo Non essere stato In quel di Monza Ma un matrimonio ieri Tante cose da fare Tanti video Tante live da fare E programmazioni Tante robe Anche per Ferrari Da fare Nel lato eSports Mi hanno vietato Impossibilitato Diciamo A venire Anche se effettivamente Avevo preso i biglietti Spero che il video Di Monza Vi sia servito Anche se Devo mettere Un'altra Un'altra brasola Un altro po' Di carne Su fuoco La famzone Il venerdì pomeriggio Non era ancora Aperta Questo Questo non fa Bene E questo onestamente Questa disorganizzazione Con intanto adesso Verstappen Che ha 116 punti Sulle clerk I biglietti costano Un lira di dio Anche il prato costava Un lira di dio Per due persone 130 euro E veramente tanto Anche se in passato Comunque i prezzi Erano quelli 120 110 Insomma Per il prato Le tribune costavano Almeno 240 euro Per andare in una tribuna A caso E tu non Non hai una fanzone Dichiari di avere Una grandissima fanzone Mai una fanzone Del genere E non c'è Praticamente Venerdì Non si può andare Perché gli scattolini Sono arrivati alla fine E tutto Questa Grande 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 Pecca Mi dispiace So anche che Nel centro di Monza Che dovevano esserci cose Non c'era niente Ragazzi Mi dispiace Mi dispiace Io spero che voi Non abbiate avuto problemi Nel termine di powerbank Eccetera Stefano Domenicali Che se ne esce Con alcune dichiarazioni Un po' discutibili Ha ragione Sul fatto che Non serve solo la storia Ma servono anche Piani di sviluppo Per un gran premio Per far parte di un gran premio Ragazzi Ci vediamo Per discutiamo Stasera su Twitch Se vogliamo commentare Un po' insieme E video in futuro Ciao